e per la bussola del risparmio ci ha tornato a trovare eletta savarino referente studi analisi economiche centro studi di gruppo buongiorno eletta grazie per essere tornata qui con noi buongiorno a voi allora la bce continua nel suo percorso di normalizzazione della politica monetaria ti chiedo subito eletta che cosa ha emerso di nuovo nella riunione di ieri sera e soprattutto come il falimento della silicon valley bank influencerà beh la bce ha rialzato i tassi di interesse 50 punti base tasso devo al 3 per cento e rifinanzi ingrate al 3 5 non ha dato evidentemente proprio per le turbulenze bancarie a quale stiamo assistendo non ha dato informazioni sul futuro sul futuro dei tassi di interesse sulla prossima evoluzione quella che si chiama for guidance è stata eliminata e questo perché perché le prossime decisioni dipenderanno appunto da tassi macro ma anche da la situazione finanziaria dipenderanno anche dall'intensità della trasmissione della politica monetaria nella stessa occasione di ieri sono state anche riviste le previsioni di crescita e di inflazione rispetto a quelle date lo scorso dicembre per cui l'inflazione totale è migliorata per quest'anno l'inflazione corre invece ancora persistente è segnalato un aumento dal 4 2 al 4 6 per cento una buona notizia sulla crescita la crescita per il 2023 è migliorata dallo 0 5 all'1 per cento chiaramente ieri il focus era appunto sulla turbulenza finanziaria la garda ha risposto che il mercato il settore bancario europeo è sano ed è robusto dal punto di vista patrimoniale ben supportato dal punto di vista della liquidità e comunque la bce dispone di tutti gli strumenti utili a supportare la liquidità e quindi a permettere la corretta trasmissione della politica monetaria ma letta secondo te le misure di emergenza messe in campo dalla banca centrale americana saranno sufficienti a stabilizzare il sistema ma soprattutto c'è un rischio di effetto domino anche in Europa beh la prima osservazione che svb come credit suisse rappresentano comunque un rischio idiosincratico legato quindi al business model di queste banche anche alle scelte di queste banche per esempio i rischi assunti da svb c'è un altro tema il fatto che svb è una banca regionale americana e come tutte le banche regionali americane dopo la deregolamentazione voluta da trump non è soggetta una serie di rescio patrimoniali a rispetto di una serie di rescio patrimoniali rescio patrimoniale quali invece sono soggette tutte le banche europee quindi il settore bancario europeo è molto più regolamentato detto questo non bisogna sottovalutare il fatto che eventi di questo tipo potrebbero impattare sulla crescita delle principali macro aree a partire proprio dagli Stati Uniti e non bisogna sottovalutare il fatto che questi potrebbero essere degli esempi del livello di pressione che subisce il sistema finanziario di fronte a un ciclo di rialzo dei tassi così imponente così rapido come è stato quello dell'ultimo anno ma secondo te in un momento in cui la volatilità è così elevata che consiglio possiamo dare ai risparmiatori il consiglio è sempre lo stesso cioè diversificare nel momento in cui si fanno delle scelte per entrare sul mercato e soprattutto gradualità gradualità nel momento di entrata sul mercato quindi nel momento di acquisto e gradualità nel momento di uscita dal mercato nel momento di vendita questi sono sostanzialmente le cose più importanti di fronte appunto a un periodo di così elevate incertezze comunque di volatilità. Eletta come sai chiudiamo sempre la nostra bussola finanziaria con un termine legato al mondo della finanza la scoperta di un termine nuovo ecco la nominavi poco fa l'inflazione core che vuol dire? L'inflazione core è l'inflazione di fondo in italiano è quel livello quell'aumento dei prezzi decurtato dalle componenti più volatili che sappiamo essere per esempio gli alimentari le materie prime l'energia tutte quelle componenti che in questo periodo hanno fatto la differenza non hanno creato pressione al rialzo quindi è quell'inflazione che racconta di più delle dinamiche sottostanti e più legate a un sistema economico ed è quella che in questo momento preoccupa molto le banche centrali perché è persistente fa fatica a scendere e questo fondamentalmente per un motivo perché sia negli Stati Uniti che in Europa c'è un input dell'inflazione core che sono i servizi che ancora segnalano pressioni al rialzo e quindi mantengono questa parte dell'inflazione elevata e lontana ancora dai livelli di riferimento delle banche centrali grazie Letta sei stata chiarissima come sempre speriamo di riaverti qui presto al QTG Post a presto